Il terreno è dedicato ai meridionali del mondo, a tutti quei popoli legati alle tradizioni che creano e lavorano con le mani, che custodiscono gelosamente la loro cultura e che rivelano un feroce attaccamento alla terra. Tutto ebbe inizio con un'esplosione, il suolo fu creato da incandescente lava vulcanica che deglutiva la superficie della terra. Terroni con le sue note intense attesta che le radici giocano un ruolo fondamentale nella crescita e nello sviluppo del carattere umano. Il progetto di Orto Parisi vi parla del legame uomo-terra, quindi di un qualcosa di viscerale che abbiamo nei confronti della natura. In questo caso vi parlo proprio di Terroni, fragranza che vuole mettere in luce proprio le radici sanguigne delle persone meridionali. Tutto ebbe inizio con un'esplosione. Il suolo fu creato da incandescente lava vulcanica che deglutiva la superficie della terra. Terroni è dedicato ai meridionali del mondo, a tutti quei popoli legati alle tradizioni che creano e lavorano con le mani, che custodiscono gelosamente la loro cultura e che rivelano un feroce attaccamento alla terra. Terroni con le sue note intense attesta che le radici giocano un ruolo fondamentale nella crescita e nello sviluppo del carattere umano. Infatti nel progetto, vi ho già parlato nel video di Sterkus, un po' del manifesto, nella testa di Gualtieri c'è il fatto di spiegare attraverso le fragranze, di mandare dei messaggi, ma in generale di spiegare come il nostro atteggiamento nei confronti degli odori, possa cambiare, in quanto già cambiato. Sono proprio gli odori forti, gli odori che provengono dalle parti del corpo dove secondo lui risiede più l'anima, quindi dove secondo lui sta proprio la nostra parte quasi più istintuale, che è stata repressa dalle convenzioni sociali e che dobbiamo in qualche modo ritrovare, in prima battuta coltivando i nostri odori. Sicuramente è un bellissimo manifesto, un bellissimo obiettivo e una bellissima visione nei confronti di qualcosa che non è più solamente un vezzo, ma che sempre di più ci connota, cioè il nostro profumo, il nostro odore, il fatto di sapere di quello di cui vogliamo sapere e di sentirci rappresentati da un qualcosa che effettivamente è nostro. Con Terroni, che cosa parliamo? Parliamo di vettivergia, già di per sé particolare, dalle note avvolgenti, dalle note legnose, un po' verdi, un po' balsamiche anche, a tratti un pochino affumicate, unite a delle note ambrate, quindi ha una dolcezza, che infatti è quello che colpisce all'inizio, appena si vaporizza questa fragranza sulla pelle si percepisce proprio un grande avvolgente sentore sdolcinato. Vi dico la verità, a me dà anche un po' fastidio all'inizio, perché io sono per le fragranze poco dolci, di solito. Il fatto di parlare di odori forti, di odori del corpo, odori inaccettabili, è anche una sorta di contrasto che c'è tra questi odori, quanto possano essere sgradevoli gli odori del nostro corpo, a volte, ma quanto possa essere positiva la capacità di accettarli. Terroni però mette in scena questo tipo di fragranze, e mette in scena questa idea di un approccio proprio primordiale nei confronti della Terra attraverso la lava, quindi attraverso il vulcano. In effetti il Sud ha vulcani famosi, ancora attivi, e quindi posso capire la simbologia fatta anche con la lava. Vedete il rosso della colorazione, perché la lava è forse anche l'atteggiamento sanguigno delle persone del Sud, che non dimenticano la propria Terra e che comunicano. Io sono mezzo del Sud, il mio compagno è del Sud, quindi so che cosa vuol dire, anche se sono nato e cresciuto a Milano, però so che cosa vuol dire essere comunicativi, essere... le persone che frequento per la maggior parte sono del Sud, in effetti quindi sono proprio contorniato, lo sto quasi realizzando adesso. Però so che cosa vuol dire essere più calorosi, passare quell'essere milanese che anche io ho dentro, e quindi essere magari più preciso, più attento a dettagli, a non essere mai sgradevole, o essere insomma molto quasi più inglese, forse come atteggiamento, anche a discapito dell'umanità, a discapito dell'essere invece proprio più diretto, più accogliente quasi. E questo però sì, sono dei luoghi comuni, non siamo tutti uguali, non è detto che sia per forza Nord e Sud così, però è una distinzione che si può notare, sicuramente gli odori forti, quindi un profumo più intenso, più quasi aggressivo, che però si asciuga come un vetiver, perché la nota dominante è proprio questa, il vetiver, quindi questa nota che comunque è elegantissima, e che alla Terre d'Hermesse, che già ci ha abituati a un vetiver più balsamico, più ambrato, questo profumo mette in luce proprio un'idea di vetiver più diversa, più accattivante. E lo fa secondo me in un modo egregio, perché alla fine, a parte la persistenza infinita di cui Orto Parisi, Nasomatto, queste fragranze insomma ci hanno abituati, è un vetiver accattivante, un qualcosa che ti rimane sulla pelle, ed è un qualcosa che ti intriga, che ti piace, che non ti togli di dosso. Ne vorrebbero di più di Alessandri Gualtieri all'interno del panorama della profumeria artistica, delle marche artistiche, perché veramente c'è una cura del dettaglio infinita, e io adoro queste cose, specialmente quando poi c'è anche la sostanza, quando ci sono anche le fragranze. I terroni non sono quindi quello che potevate pensare quando avete letto il nome della fragranza, i terroni sono infatti coloro che hanno un legame con le proprie radici, con la terra, un qualcosa che permette di costruire e di portare avanti il proprio essere, la propria individualità, in una maniera quasi più spessa, più accattivante. Contrario di quanto potremmo pensare, quello di Terroni non è un viaggio nel cattivo gusto, ma anzi è un viaggio nell'eleganza, attraverso questa fragranza, che veramente si unisce note grezze e mette in scena proprio il lato più ruvido del vetiver, però, appunto, come ho detto, lo riscalda e lo rende avvolgente, esattamente come le persone del sud sono, attraverso delle note ambrate. Sapete che tutte le note olfattive non sono dichiarate, quindi non le possiamo solamente inferire, però, quella, diciamo, quel quid della fragranza ambrata la si percepisce. La dolcezza, dicevo appunto, non essere eccessiva. Spero che la review vi sia piaciuta e di avervi incuriosito nella prova di questa fragranza. Fatemi sapere nello spazio sotto che cosa ne pensate con i commenti e se vi siete sentiti, magari voi del sud, insultati dal nome Terroni, se la fragranza l'avete provata e vi piace, se vi piace il lavoro di Alessandro Gualtieri oppure no, se siete contenti di indossare un qualche cosa di made in Italy e di così attento ai dettagli, lasciatemi sotto quello che pensate e vi ricordo di sottoscrivervi al canale se non l'avete già fatto, accendendo la campanellina per essere sempre informati su quando pubblico dei video, andare su Facebook e Instagram e soprattutto Twitter per cercare di stare sempre in contatto. Alla prossima recensione, ciao! Ciao! Ciao!